Non c'è cosa migliore che sia un musulmano italiano che spieghi a un altro italiano cosa risuama, perché effettivamente è il miglior modo perché c'è una modalità di linguaggio, non solo di linguaggio della lingua italiana, è una questione di mentalità, insomma. Il risultato è culturale, in qualche modo. E oltretutto crediamo che purtroppo, con tutto il rispetto per i nostri collegionali, l'immigrazione che è venuta in Italia non è di altissimo livello culturale, insomma, e a volte tendono loro stessi a vivere l'Islam non secondo i loro paesi di origine, Marocco, Turchia, ma secondo i loro paesi proprio, solo quartiere, così posso dire, di origine, insomma, dove poi c'è un punto, un stato culturale molto accentuato, ecco poi dove di fatto si confonde etnia, cultura e religione. Noi crediamo invece che come musulmani italiani abbiamo avuto la necessità e anche il dovere di fare questo sforzo di riuscire a riattualizzare la dimissione della fede islamica nel contesto socioculturale. In questo senso crediamo di poter essere d'aiuto ai nostri paesi regionali e devo dire che lo testimoniano i turchi domani che saranno presenti, i senegalesi, cominciano a accorgersi anche loro e ci chiedono effettivamente aiuto su come ovviamente porsi, perché molti danni sono stati fatti e per cui da altre situazioni, per cui cercheremo di riparare questi danni, ma soprattutto a costruire qualcosa di significativo per il futuro.